Coez e Fraquintale, che colpa ne ho! 8 e 30 spaccate, 8 e mezza si riparte con l'ultima mezz'ora più o meno di trasmissione insieme all'ospite del martedì che è Valtaccherubini consulta per i Fri Milano. Buongiorno a tutti, buona giornata, un po' piovosa diciamo, anche l'occasione oltre che per fare cose internamente, in luoghi di lavoro, a scuola, ma anche magari per andare a vedere qualche mostra, qualche occasione. C'è sempre in essere il diciottesimo Foto Festival che chiuderà a fine del mese il 31 di ottobre, quindi ci sono tutta una serie di opportunità che vale la pena andare a vedere. milanofotofestival.it il sito di riferimento. E quindi si può visitare, si può utilizzare Milano tranquillamente quando piove. Non siamo a Bologna che possiamo girarla a piedi sotto i portici, ma c'è tanto da vedere comunque a Milano. Qualche portico ce l'abbiamo anche noi. Ma ne abbiamo visti qualcuno, ad esempio a Trenno abbiamo visto, anche nelle periferie ci sono appunto i portici. C'è anche in piazzarosa scolari, ci sono i portici, si può passeggiare sotto, quindi a Trenno sicuramente c'è una certa animazione più da paese. Ecco, infatti, da Borgo, da Borgo, come piace chiamarli a volte, a volte paesi, ma sicuramente ex comuni, quello sicuro, no? Questo sicuramente ex comuni. Trenno e uniti. Trenno e uniti, infatti. Perché parliamo degli ex comuni? Perché ci stiamo avvicinando a questo dicembre, in cui sarà proprio il giorno del centenario, no? Sì, è il giorno del centenario. Ecco, è il centenario dell'aggregazione degli antichi comuni e quindi della soppressione degli antichi comuni, ma è anche la nascita delle periferie. Le periferie urbane che si connotano, secondo anche quello che è stato il libro bianco della Commissione Europea del 2001, da due aspetti, la mancanza di identità e la mancanza di una organizzazione amministrativa adeguata. Per quanto riguarda... Infatti, l'identità, per quanto riguarda l'identità, mi sembra che Milano... Identità non è proprio per noi, perché appunto Milano, siccome è andata per aggregazione di antichi comuni, in questo caso, a partire dai Corpi Santi, prima nel 1873 e poi nel 1923. Ricordando anche Turro, perché Turro è un antico comune che venne, diciamo così, assorbito, ma si consegnò a Milano nel 1918, eravamo in clima da prima guerra mondiale, quindi c'erano un po' di problemi. Per cui non dimentichiamo l'antico comune di Turno e poi gli altri 11 comuni che vennero aggregati, chi, diciamo così, mano militare, chi consenziente, chi meno consenziente. E sicuramente non hanno questi territori, che ormai sono l'80% del comune di Milano, non hanno l'amministrazione perché era stata tolta appunto 100 anni fa. E quindi da qui il concetto di periferia, un concetto che non è che è una realtà, manca, sono stati introdotti negli anni 68-69 con il decentramento, i consigli di zona allora, ma sono sempre rimasti un po' una cenerentola, una lettera morta, che appunto sono il problema strutturale di un'amministrazione, di una metropoli, seppur piccola come Milano, perché Milano non si riesce a governare dal centro. Lo vediamo tutti i giorni. E poi dice quella parola famosa, no, policentrica, che ogni tanto salta fuori. Siamo o non siamo policentrici? Ma possiamo andare al ventesimo di Giorgio Gaber. Un'idea, un concetto, un'idea, finché resta un'idea, è soltanto un'illusione. E quindi, sì, noi possiamo fare tutti i concetti che vogliamo. Il problema poi è confrontarsi con la realtà. Se vogliamo una Milano policentrica, ci vuole anche un'amministrazione policentrica. Un'amministrazione policentrica, che se teniamo conto che il bilancio di spese ordinari, ma tanto per avere un indicatore, del Comune di Milano è più di 3.000 milioni di euro, teniamo conto che i nove municipi, tutti assieme, hanno una capacità di spesa di nove. Poi possiamo dire, ma ne hanno fin troppo, troppo poca. Questa è la realtà, il 3 per mille. Questa qui è l'incidenza che hanno. E quindi, chiaramente, con una impostazione organizzativa di questo genere, di passi non se ne riescono a fare avanti, perché si dice fare sistema, ma il primo che non fa rete sul territorio, esattamente, è la struttura comunale, ma non solamente a Milano. Cioè, è proprio un'impostazione centralistica e quindi noi ci troviamo ad avere numerosi servizi sul territorio che si muovono scoordinati. Alcune volte fanno anche dei doppioni e molto spesso ci sono delle scoperture. Poi c'è un concetto un pochettino strano dove i problemi li dovrebbe risolvere qualcun altro, il terzo settore, il volontariato, ma non è così. Cioè, concettualmente, nella Costituzione italiana è stato introdotto anche un po' di anni fa il concetto di sussidiarietà. Che cos'è la sussidiarietà? È che se io, nel mio piccolo, riesco a risolvere i miei problemi, li risolvo, punto e basta. Non ho bisogno di delegarli a qualcun altro. Il problema è che io delego a qualcun altro dei problemi che non riesco a risolvere. Invece, la situazione qui è capovolta. Per esempio, il Comune fa tutta una serie di servizi, poi non ce la fa, ci pensa qualcuno che è l'ambulanza, è l'emergenza. Per cui noi ci troviamo in uno stato strutturale di emergenza, paradossalmente. Ecco, per cui bisogna un pochettino invertire l'ordine dei fattori e sul territorio ci sono tantissime realtà che però, appunto, essendo un concetto centralistico, poi quello che non si farete è proprio sul territorio. Non parliamo di sistema, ma ne parleremo. Hai nominato Giorgio Gaber poco fa, guarda, non lo sapevi, e c'era in programmazione proprio Giorgio Gaber. Non la canzone che hai nominato tu, ma un'altra che è storica e mitica del Signor G. Stiamo parlando di Una fetta di limone. Qui, alle 8.36 minuti, Giorgio Gaber, Una fetta di limone. Una fetta di limone. Giorgio Gaber, anzi questa era, adesso diremmo, joint venture, diremmo, no? Oppure featuring, perché in realtà è una canzone di scritta da Enzo Iannacci, che poi, appunto, interpretata in questo caso da Giorgio Gaber, ma succedeva spesso, no? Qui, appunto, si mettevano insieme, all'epoca si chiamavano gruppi, adesso si chiamerebbero joint venture, progetto, o featuring, ma insomma, stava il fatto che quando ci si metteva insieme venivano fuori delle grandi cose. Ma lì così, secondo me, era una comunità di artisti. Eh sì, una rete. Però si ritrovava, c'era il derby, sicuramente, che è andato allo sfacelo, mettiamolo in questa maniera, ma è stata proprio una fucina di tutte queste persone che poi hanno arricchito creativamente la nostra vita quotidiana, possiamo dire. Molte arrivavano anche dalle periferie, tra parentesi, perché riportavano un po' quel racconto, oppure c'era questa cosa interessante di chi magari nelle periferie non arrivava da lì, ma le sapeva raccontare molto bene. Diciamo anche che per certi aspetti le vivevano. Sì, le vivevano, giusto. Noi abbiamo in questo periodo qui tre personaggi del mondo artistico, Testori, Gaber, Iannacci. C'è stato anche recentemente una mostra piuttosto interessante, dove il tema è esattamente il loro racconto, il loro vissuto nelle aree periferiche. E quindi Testori, Al-Mac Mahon, Iannacci, poteva andare su Baggio, Giambellino con il Cerutigino per Gaber. E hanno raccontato questa vita quotidiana con la loro modalità. Ma una loro modalità, proprio alla fabbrica del vapore, questa mostra che aveva, poi una serie di iniziative, non solo la mostra, ma che aveva proprio una lettura delle periferie, periferie che si sono, diciamo così, modificate, ma che rimangono sempre un lontano, ma nemmeno un lontano ricordo. Rimangono un eccello e un ambiente sconosciuto, perché questo qui è il tema fondamentale che abbiamo visto con ormai oltre 50 appuntamenti in giro per biblioteche, scuole, associazioni, proprio per raccontare la storia del centenario, e che i milanesi non conoscono Milano. E quindi ognuno conosce un pochettino il proprio posto, più i luoghi del centro. Il resto è sconosciuto. Per quello che è importante ricostruire un ABC del territorio milanese, e in particolare delle periferie, che sono l'80% di questo, e quindi l'ABC parte con Assiano, Basmetto, Cavriano. Quando diciamo queste cose, rimangono tutti lì e dicono di che cosa stiamo parlando. Per capire questo dobbiamo però tornare indietro nel tempo, tornare indietro almeno al 1923, se non prima, e quindi capire meglio cosa significa questa annessione. E ci sono degli incontri che hanno a che fare con il centenario degli antichi comuni, giusto? Allora ne abbiamo fatti più di 50, sia promossi, diciamo, una serie interessante sicuramente sono state le pubblicazioni delle Edizioni Meravigli, con due libri di Edro Bicchetti proprio in questo 2022-2023. Uno che riguarda i comuni aggregati nel 1923, storia e storia degli antichi borghi milanesi. L'altro invece, che è più recente, abbiamo appena fatto una presentazione, che appunto riguarda il Comune dei Corpi Santi, l'antico Comune dei Corpi Santi, appunto aggregato a Milano nel 1873. Dopodiché c'è stato anche, in corso di quest'anno, l'Almanacco milanese 2023, che è stato dedicato ogni mese a uno dei comuni aggregati. Ecco, questo qui è un pacchetto, ma abbiamo stilato un elenco che, oltre a otto libri che riguardano la città in generale, poi ci sono altri 89 libri che parlano di singoli antichi comuni, quartieri, borghi, a seconda dei casi. Ecco, questo è sicuramente un patrimonio da utilizzare. Sono approfondimenti storici che servono per la didattica scolastica. Ecco, quello del tema della scolastica è un tema che tiri spesso in ballo e che è interessante perché tu dici, noi studiamo nelle scuole milanesi, sappiamo tutto sugli assiro babilonesi, ma non si studia mai, a nessun livello, non dico, cioè, dall'asilo fino all'università, non si studia mai la nostra territorialità, che non vuol dire essere legati appunto a chissà quale nostalgia di un tempo andato, ma per capire e magari progettare e programmare un futuro. Ma diciamo che non è una caratterizzazione milanese questa, è sempre un po' generale, perché Agostino Petrillo su uno dei suoi testi periferici di Genova diceva che molti amministratori del comune di Genova confondevano un quartiere con un altro che distava due o tre chilometri. Ma è esattamente quello che è successo anche a noi quando è stato introdotto il centro vaccinale a Trenno, cosiddetto, chiamato Trenno, chiamato Trenno e tutti quanti pensavano che fosse al parco di Trenno, che stava due chilometri e mezzo di distanza. Ecco, quindi questo dato di non conoscenza... Un altro dato fondamentale, secondo me, che lo porto sempre ad esempio, San Cristoforo, la chiesa di San Cristoforo, la stazione di San Cristoforo, la metropolitana di San Cristoforo, quale sia San Cristoforo non si sa bene poi alla fine, ci si perde lungo il naviglio. Ma noi pensiamo anche a una delle ultime metropolitane, delle fermate delle metropolitane della M4, Repetti, a parte che mi sembra, siccome la logica è quella di chiamare la metropolitana con la via che la traversa, ecco, qui così, c'è questo Repetti, che sarà sicuramente un personaggio importante, nessuno lo mette in discussione, però lì così cade proprio via Cavriana, appunto che è nella zona di Cavriano, e quindi richiama storicamente, ma il problema è che appunto si fanno le cose piuttosto separate, per aree, e quindi uno che prende determinate decisioni non ha una visione complessiva e inserisce anche quello in un processo organizzativo, che può essere anche banalmente la toponomastica, che non è un aspetto banale, ma l'abbiamo visto prima, chiamare il parcheggio di trenno, trenno è stato dal punto di vista, ma non toponomastico, operativo, un errore, perché doveva essere chiamato parcheggio Figino, è a 300 metri di distanza da Figino, probabilmente noi leghiamo Figino all'inceneritore, oggi termovalorizzatore, e quindi ai tempi di Expo non era molto bello legare un parcheggio con questo nome, era più bello, così dice un pochettino la storia, era migliore chiamarlo trenno, parco di trenno, è solamente che poi fai danno. C'erano 4 chilometri nel parcheggio di trenno quasi. Ci sono 2 chilometri e mezzo di distanza, insomma non è proprio la stessa cosa, per chi viene dall'estero probabilmente faceva lo stesso, è Glamour, ma noi dobbiamo stare a una realtà, dopodiché possiamo scoprire tranquillamente che ci sono tutta una serie di posti, che andare a vedere sono molto più interessanti di come vengono raccontati. Il tema del centenario ha cominciato un po' a mettere in evidenza, ma oggi bisogna fare un'iniziativa strutturata, semplice, ma di informazione scolastica. E andiamo con un po' di musica allora, Gimme some loving, Blues Brothers, e poi torniamo ancora a parlare di periferia. Beh, Blues Brothers se ne sapevano di periferia, ah, se ne sapevano. Blues Brothers, Gimme some loving, in 8 e 50 minuti, ancora qui con Walter Cherubini, quest'oggi anzi, grazie Walter di essermi anche arrivato in assistenza, perché appunto non essendoci il buon masieri, cominciavo a dare i numeri a parlare da solo, quindi grazie di essere arrivato. Così siamo in due. No, 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 anzi, i numeri magari li diamo, però li diamo corretti, e soprattutto li dà corretti Walter, quando appunto parliamo di periferie. Adesso stavamo un po' guardando sull'internet, ma vedevamo che in realtà, una cosa che magari i milanesi non conoscono Milano, non la raccontiamo nelle scuole tutto, però invece ad esempio sulla mappa di Google Maps vengono riscritti giusti molti toponemi della Milano che fu, e che ad esempio leggiamo dei quartieri, tutti conoscono Dergano, ma magari pochi conoscono Derganino, che è un po' a sud, no, giusto? A cavallo sud di Valenciana. Diciamo che a est. No, dico a sud di Dergano, no, giusto? È appena sotto, sotto Dergano. Sì, sull'est comunque nell'area di Dergano. Diciamo vicino a Dergano, appunto. Poi ho letto di un Montalbino, cosa che io non lo conoscevo? Un Montalbino vicino alla Maggiolina, Maggiolina la conoscevo. E poi altri, non so, tutti diciamo andiamo in isola. Segnano, Segnano, Segnano. Segnano, Segnano. Molti dicono andiamo in isola, attenzione, perché l'isola arriva fino a un certo punto. Poi sopra c'è La Fontana, che è famosa anche per il teatro La Fontana, e anche, devo dire, per il ristorante La Fontana, che fa una pizzeria al trancio. Buonissima. C'è sempre, vedi come si collega al territorio. Ma diciamo che la toponomastica non è che sia inesistente, anche quella nuova. Adesso pensiamo, per esempio, all'Acqua Bella, che non è che si conosca particolarmente. Il tema è quello di avere una visione complessiva. Cioè, se noi vogliamo fare una... vivere la città da una parte, ma anche governare la città, possiamo andare un pochettino a quelli che rispondono a scuola e sanno qualcosa e cercano di farla franca, pur magari essendo impreparati. No, se l'ho fatto... Ho fatto una carriera. Ho fatto una carriera su quello. Però il tema è quello di anche porre strutturalmente la condizione per affrontare in maniera complessiva le cose. Quindi, conoscere la toponomastica della nostra città è il minimo sindacale se uno vuole intervenire sulla città. Altrimenti, che cos'è che accade? Che ci sono le emergenze che sono continue e uno corre dietro alle emergenze. Ma che cosa vuol dire questo? Che da una parte corre dietro i problemi che molto spesso, diciamo, sono molto più veloci di noi e arrivano sempre primi e rimangono sempre lì. In secondo luogo, non si utilizzano le risorse che ci sono sul campo. Perché non conoscendo il campo non sappiamo dove ci sono problemi, ma anche risorse. Noi diciamo sempre sull'aspetto culturale dove c'è una grossa enfasi ma la periferia, l'area fuori dal centro è costellata di presenze culturali. Ce ne sono almeno 400. Ci sono teatri, ci sono biblioteche, ci sono musei, ci sono anche i cori. C'è di tutto che si può utilizzare per animare i territori. Il problema è che manca proprio questa visione complessiva un governo che non vuol dire che c'è il comune che fa tutto, decide tutto, ma il comune proprio in questa logica sussidiaria è quello che ha una visione complessiva e dove c'è lo aiuta e dove non c'è interviene. Ecco, invece l'impostazione in generale non è quello, è legato, ognuno ha la propria competenza, il proprio settore, io faccio il mio, punto, faccio il mio, ma poi questo mio molto spesso è un pochettino come una pezza che si mette a un buco, ma come dicono è peggio la pezza del buco. Adesso senza essere negativista da questo punto di vista. Però, se iniziamo a cambiare passo, il cambiare passo sicuramente daremo un contributo con l'iniziativa che facevamo già pre-pandemia a scuola di periferie, a scuola di periferie che quest'anno 2023-2024 riprenderemo in maniera piuttosto strutturata con alcune sedi stabili che sono al nord Niguarda, a sud all'ostadera, a est a Quartogiaro, a est a Lambrate e a ovest a Quartogiaro e queste qui sono sedi stabili di confronto bimestrale dove chiunque vorrà approfondire in maniera continuativa il tema delle periferie ma anche per lanciare delle proposte a livello cittadino si potrà incontrare appunto perché c'è una regia cittadina. In secondo luogo ci saranno anche delle sedi tematiche e le sedi tematiche dove ci saranno qui a Milano News quello che è l'informazione sul territorio magari con i giornali di zona eccetera perché anche dare un'informazione territoriale comincia a essere una cosa importante deve essere anche strutturata e anche aiutata diciamo ma per esempio a Baggio ci sarà anche il punto di riferimento di chi fa i doposcuola perché i doposcuola sono quella realtà ma ci sono sì sono importanti nessuno sa quanti sono ma e poi ci sono anche delle modalità operative per chi per esempio ha contratti di locazione occupa spazi comunali dove ci sono i bandi si impara tanto sulla scuola di periferia si impara anche a capire meglio la periferia Walter grazie siamo arrivati alla fine quest'oggi dobbiamo chiudere così perché sono già le 8.55 in questo istante se no qui ci tagliano grazie troviamo tutto sul sito di consulta periferia buona giornata sì più o meno aggiornato anche con appunto gli incontri del centenario che ce ne sono già con questo fine settimana perfetto e allora adesso andiamo invece a Nolo o meglio a Loreto Paradiso grazie